abbiamo promesso una breaking news e le promesse vanno mantenute notizie da milanello abbastanza confortanti togliamo abbastanza confortanti innanzitutto partiamo da chier che dovrebbe essere a disposizione a un fastidio indubbiamente all'aduttore ma dovrebbe stringere i denti è molto importante perché spostare che sì il milan metterebbe un giocatore non nel suo ruolo poi inserendo un altro giocatore a centrocampo invece dovrebbe farcela chier domani le ultime valutazioni quindi una buona notizia almeno il milan con gabby e chier ha due giocatori di ruolo e di ruolo importante in difesa calabria laxalt e attenzione laxalt mi è sempre guardato con un po di dubbi ma laxalt da grande professionista da grande nazionale uruguagio ha risposto molto molto bene a reggio emilia contro il sassuolo quindi domani partita molto impegnativa ma siamo convinti che laxalt possa dare il contributo che abbiamo visto dare a reggio emilia appunto al centrocampo viene naturale c'è benasser biglia non c'è benasser giocabiglia insieme a che sì che rimane lì la davanti non ci saranno cambi anche se un piccolissimo dubbio lo lascio tra seleme care favorito e buonaventura buonaventura contro l'atalanta magari più riguarda anche questo aspetto ma favorito e seleme care con celano glurebic e ivra supremasi l'altra notizia confortante riguarda casilieco che oggi si è allenato con il gruppo e quindi certamente non dal primo minuto ma potrebbe andare in panchina è quindi una notizia importante per pioli perché là davanti potrà avere potrebbe far ruotare e per casilieco si parla di un quarto d'ora venti minuti non di più potrebbe far ruotare anche il lungo lustroso il giunco luccicante quindi queste le notizie abbiamo la fotografia della firma di questa mattina abbiamo con gazzidis e sotto di lui con il contratto davanti pioli insieme i procuratori i fratelli giufreda e e mirco levati del gruppo giufreda insieme ovviamente riconoscibilissimi gazzidis appunto massara e paolo maldini con quindi con i tre procuratori con i tre procuratori del di stefano pioli quindi questa è la foto e dunque un una giornata importante indimenticabile questo 23 luglio per stefano pioli che oggi ripeto ha detto che ancora forse non si rende conto ma è molto concentrato sulla partita contro l'atalanta queste le brecchi news e quindi rapidamente donnarumma calabria chier gabbia laxalt con che si biglia se le mecher favorito su buonaventura cialanoglu rebic e ibra supremaci questa è la formazione che domani arbitro doveri affronterà l'atalanta in uno degli scontri più affascinanti di questo periodo della stagione giocano le squadre in testa la classifica di questo periodo della stagione se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale youtube di Carlo Pellegatti